benvenuti alla settimana politica in pochi minuti di video backlight di open gate italia andiamo a guardare le notizie di questa settimana la russa presidente del senato senza i voti di forza italia fontana alla camera si apre la diciannovesima legislatura primo strappo all'interno del centrodestra forza italia non partecipa al voto per elezione del presidente del senato d'eccezione del suo leader silvio berlusconi e dalla presidente uscente alberti casellati la russia raccoglie 116 preferenze viene eletto alla presidenza di palazzo madama accuse incrociate da pd e renziani secondo letta una parte dell'opposizione non aspetta altro che entrare in maggioranza ed è irresponsabile questo aiuto esterno ad una maggioranza già divisa ed in difficoltà nega ogni accusa matteo renzi leader di data la viva di chiara non è che ogni volta che succede qualcosa sono stato io fossi stato io lo avevi rivendicato enormi frizioni sul nome di licia ronzulli fedelissima del cavaliere a montecitorio invece nella mattinata di venerdì viene eletto il vice presidente della della lega lorenzo fontana già ministro della della famiglia forti polemiche da parte dell'opposizione che durante la votazione slotano sui banchi lo stressione con su scritto no a un presidente omofobo e pro putin toto ministri si alzano sempre più le quotazioni di giancarlo gioggetti all'economia alla lega dove per andare anche le infrastrutture gli affari regionali agricoltura e famiglia a forza italia invece il nome più sicuro sembra quello di antonio italiani per il ministero degli esteri e per quanto riguarda i ministeri si parla di università pubblica amministrazione e transizione ecologica con bernini casellati picchetto fratine per quanto riguarda invece fratelli d'italia si parla sempre più di affari europei con raffaele fito giustizia carla nord e difesa d'olfo urso oltre a istruzione e cultura per quanto riguarda invece i tecnici sempre più alte le quotazioni di matteo pantidosi per l'interno e tecnici anche per salute e lavoro draghi saluta i ministri approva il documento programmatico di bilancio con molta probabilità lunedì è stato l'ultimo consiglio dei ministri taglia ringraziato la squadra di governo ha poi invitato tutti i ministri ad agevolare una transizione ordinata con il nuovo esecutivo che permette a chi verrà di mettersi al lavoro immediatamente viene approvato il documento programmatico di bilancio 2023 l'italia è entrata in recessione tecnica e ne uscirà nel secondo trimestre del 2023 ultima notizia ucraina gli sviluppi del conflitto mosca intensifica i bombardamenti sull'ucraina dopo la distruzione del ponte kerce che collega la russia alla crimea gli attacchi vengono condannati fortemente dall'onu che condanna quindi la tentata annessione illegale delle quattro regioni ucraina mentre la nato conferma l'appoggio a chi finché servirà questa era l'ultima notizia ci vediamo nella prossima settimana